Avete mai pensato a quale possa essere l'impatto ambientale provocato dall'abbandono della plastica nell'ambiente? Grosse quantità di metano, pericoloso gas che contribuisce al riscaldamento globale, viene rilasciato dalla plastica che gettiamo via. Ogni giorno vengono utilizzate circa un milione di bottiglie in tutto il mondo, che impiegheranno per decomporsi negli oceani anche fino a 400 anni. Separare i tappi dalle bottiglie è il primo passo per effettuare una corretta raccolta differenziata, questo perché i due elementi non vengono riciclati allo stesso modo. I tappi addirittura non vengono considerati rifiuto urbano e possono essere raccolti dalle associazioni che le destineranno al riciclaggio impiegando i guadagni ricavati in progetti di beneficenza. Informati quali tra le associazioni che ti stanno più a cuore aderisci a questo progetto e inizia a fare la differenza.